D'Alessandro, la riforma del trasporto locale ormai è cosa fatta, ma le opposizioni continuano a rumoreggiare? L'ha detto lei, le opposizioni sanno fare questo, rumoreggiare. Hanno avuto invece 66 mesi di tempo per fare le cose che non hanno fatto e che hanno rinviato al futuro. Non conveniva mettere mano alla società unica perché c'erano così tante poltrone da attribuire. Non conveniva perché significava mettersi seduti con i sindacati a ragionare insieme su che cosa vogliamo fare della società unica. Noi non abbiamo paura di nulla, le riforme non fanno paura, servono. Uno a salvare 1600 posti di lavoro, tre società divise e non si sarebbe salvata una. Secondo a rilanciare una nuova programmazione del trasporto pubblico locale, oggi noi lo possiamo fare. Terzo, dobbiamo avere l'ambizione che nel momento in cui si arriverà la gara la società unica sia in grado di vincere queste gare. Per quanto riguarda i costi dei biglietti, noi stiamo parlando di adeguamenti istat, non di aumenti dei biglietti. Ma anche laddove ci dovessero essere degli aumenti dei costi dei biglietti, è evidente che se il centro-destra vuole tenere in piedi una società pubblica con 1600 dipendenti, noi dobbiamo agire. Da un lato diminuendo i costi, dall'altro aumentando i ricavi e le entrate. Se si fanno 40-50 km con 1,10 euro e lo porti a 1,20 euro o 1,30 euro, non succede nulla al cittadino, ma almeno quella tariffa copre il costo. Per non fare queste decisioni, per non assumere queste decisioni hanno portato l'ARPA al fallimento, sangritana in grosse difficoltà pur avendo straordinarie potenzialità, la GTM a vivere in una condizione di limbo. Tutto ciò non era possibile anche perché dietro l'angolo abbiamo tagli dei fondi ai trasporti da parte del governo centrale, abbiamo tagli dei fondi regionali, per cui dobbiamo riorganizzare l'azienda unica sulla base delle minori economie. E per quanto riguarda il famoso contenzioso, è un contenzioso che non riguarda consulenti che le tre società con l'ARPA ha assunto. Per fare una fusione il Codice Civile prevede che il Tribunale, non noi, il Tribunale nomina dei periti. Sulla base di quelle perizie si pagano le parcelle. Le parcelle che hanno presentato sono, secondo noi, esagerate, le abbiamo contestate e ancora una volta avremo ragione noi. Ancora una volta avranno torto loro.